Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su Planetwin 365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite e fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su Planetwin 365.news. CYDSO-1 is the probiotic recommended by top doctors and nutritionists. Go to seed.com slash Spotify for 25% off Seed's DSO-1 Daily Symbiotic. Apple Gift Card is a practical gift that unlocks a world of entertainment and fun. You can send it via email or give a physical card to your loved ones. Your friends and family can spend it on their favorite Apple services, including Apple subscriptions. Apple Gift Card can be used to buy all things Apple. Products, accessories, apps, games, movies, TV shows, iCloud Plus and more. Visit apple.com for details and to send Apple Gift Card to your friends and family this holiday season. Non crediamo assolutamente che siate stupidi, però alla luce di quanto hai raccontato io ti posso dire che credo in una sola legge, a cui tra l'altro mi ha avvicinato la mia professoressa di spagnolo in primo superiore, testimoni di tutte le mie compagnie di classe, la verità è che non ti piaci abbastanza. Questo è poco ma è sicuro. Questa è la risposta che mi do in questi casi, l'accetto, mangio il mio orgoglio. Allora perché poi ogni volta che sono presente da determinate persone che hanno avuto certi comportamenti vengo palesemente accimentato e anche qui io poi conservo le prove. Senza non è che quando poi succede così io prendo le prove, capito? C'ho gente, testimoni, cose perché così. Per quale motivo? Per quello che dicevamo prima del tenerti lì. Sembra questo un gioco malato. Tenerti lì, io voglio solo dire che in questi casi quando percepisco quella cosa lì arriva la lavanda gastrica, arriva che vieni e poi vieni bloccata dal sottoscritto e uno dice eh bambino, no no, io blocco perché giustamente di che stiamo parlando poi un domani possiamo diventare amici, sblocchiamo e siamo in amicizia ma insomma fino a che la cosa è calda. Non ho detto mai rancore, se no non si va avanti. Rancore mai, rancore mai, io con tutte le persone con cui, tutte le persone che ho cercato di distruggere dentro, poi siamo diventati anche buoni amici. Ah ok, la dici proprio così tranquilla. Sì perché non c'è cattiveria nei miei gesti, anzi c'è tanta verità e quindi ci sono anche tante ragazze che mi hanno ringraziato e tante che dopo di me hanno fatto figli, non con me, ma le hanno fatti. Persone che si erano perdute, perdute, relazioni finite, maschi che pittano, chiamano ragazze, due scopate con me, relazioni rinate, figli, famiglia. Quindi se volete ritrovarvi andate da Filippo e poi il prossimo, il seguente è il padre dei vostri figli. Ho chiuso bottega, ho chiuso, adesso non sono più cupido, adesso non ci casco più, ho imparato la lezione negli ultimi anni, voglio dire solo questo. Ora mi faccia suora. Sì esatto esatto e soprattutto diamoci una regolazione. Il fatto qual è, il fatto qual è, è che io comprendo, cioè ognuno è fatto a modo suo e come i maschi hanno delle particolarità, le donne hanno altre, ha visto? Ho chiamato donne e maschi, neanche uomini. Cioè ho dato un punto in più alle donne, ma perché le donne io le amo. A tal proposito voglio chiedere a entrambi. No, stavo dicendo una cosa. Poi finisci e poi ti faccio una domanda a entrambi. Che, oddio, mi sono dimenticato. Non era abbastanza importante perché si è entrato in un macro argomento molto più grande. Voglio dire, siamo partiti col concetto giustissimo che la donna e gli uomini debbano avere pari diritti. Certo. E' un'uguaglianza sociale. Ma non è che stiamo arrivando però al fatto che le donne, e forse Carola non è che ci può dare questa grande testimonianza perché donna del sud è donna vera, io la percepisco, quindi comunque magari lei ha una prospettiva diversa, ma guardando le tue coetanee, le tue amiche, magari tu stessa, non è che per caso stiamo arrivando a un punto in cui le donne vogliono il superamento? Io non penso al superamento perché per noi è già un'utopia, è un sogno avere pari diritti. Io credo che ci siamo, c'è solo il retaggio culturale che deve aggiornarsi, ma il sistema è sentato. Non ci siamo perché è un condizionamento così radicato che purtroppo stiamo lottando, è difficile da raggiungere e appunto essendo io del sud ti posso dire che giù è... è ancora molto lontano. Sì, giù è diverso, anche in Abruzzo magari è un po' diverso, però nel senso anche nelle realtà più lontane, c'era questo mio professore che diceva nel vecchio stampo di famiglia è vero che l'uomo comandava fuori, ma la donna comandava dentro, scusa mi ti ho sputato addosso. Lo che posso dire è che magari trasudava un pezzo della miglior carbonana del 2022 appena mangiata qui vicino, che siamo a Monteverde, faccio la marchetta, tu hai prima fatto la marchetta, la faccio anch'io, io voglio, cazzo vedi, ho messo il privato, la pietra scheggiata, Monteverde, la miglior carbonana del 2022 appena mangiato, grazie, il proprietario simpaticissimo. Carlo, la dicevamo? No, dicevo che comunque nel sud è ancora molto lontano e me ne rendo conto. Ma qui a Roma, nella grande città, a Milano? E tu come ti senti se ti, in un piano di femminilità rispetto a questo mondo LGBTQ, quello che avanza? La tua femminilità come la vedi? In questo mondo che si modernizza, uomini che diventano donne, donne che diventano uomini, generi, non generi. La mia femminilità è qui, dove è sempre stata, e anzi, mi sento anche più libera di esprimerla, perché, appunto, dato che tutti stanno riuscendo, non senza difficoltà, però a esprimersi, a far uscire la vera essenza di ogni persona, anche io mi sento più libera di esprimere la mia. Bene. Carola, il tempo giusto. Quando e quanto farsi sentire per non rischiare di essere oppressivi? Quando ti va? Allora, 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 allora. Non te la capi così. No, no, dico una cosa. Se Carola, come ragazza, donna, la pensa così, chapeau. Chapeau. Tanto di cappello vuol dire che non sta lì a farsi tutti quei discorsi che facevamo prima, cioè fisse, paranoie, oddio quello così, oddio quello con la, oddio con la, ok. Però sappiamo bene Sappiamo benissimo Che purtroppo Non funziona così Allora io mi auguro che Non ci sia ancora la cosa del No mi ha risposto lui Quindi ora devo rispondergli io Ma mi ha scritto due minuti fa Quindi non gli rispondo ora Io penso sia una cosa passata Quella cosa purtroppo esiste Ormai i social stanno da così tanto tempo Non credo Cioè ti ripeto Ti ammiro e ti apprezzo veramente Cioè tu fai i giochetti? No no Allora perché io ti dovrei dire di sì? No io sto parlando di esperienze Qua parliamo di statistica Statistica Io ti faccio una statistica In base alle mie esperienze Alle mie amiche Non mi arrivano manco più screen di amiche Che mi dicono oddio dimmi come rispondere Cioè io mi ricordo all'inizio Quando ci scaricamo Whatsapp Che magari io rispondevo A intere conversazioni Di amici e amiche Diciamoci la verità È la verità? Se tu adesso Sì 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 Ma io ti credo ciecamente Se tu stai chattando Con Damore ad esempio Sì Lui scrive Tu rispondi Lui risponde subito Anche Quanti messaggi devono passare Consecutivi di risposta A pochi secondi Prima che inizia il ghosting Carola Guardiamoci in faccia Il ghosting Parte anche subito Se Se capisco che Proprio non mi va di risponderti Certo E' proprio questo il problema Questo concetto Ma se io continuo Ma appunto Ritorniamo sempre alla legge della verità Che non gli piace abbastanza Sì ma fino a un certo punto Io non sto parlando di cose personali Io sto parlando anche di Quanti messaggi devono passare Di situazioni Anche poi di gente consolidata Di gente che ha fatto reazioni Che non gli piace abbastanza Ma si comportano comunque Allo stesso modo Eppure porco due stanno insieme Allora Qua magari ci stanno I messaggiatori seriali Che appunto sono esperti Ma non per qualcosa Perché per dirti Io detesto Messaggiare Io sono uno che arriva al messaggio Rispondo E quello che è Poi preferisco una chiamata Preferisco vederci Però quando una persona Magari vedo che Magari mi scrive Mi cerca Io mi metto Io rispondo Perché dico Fa che lei ragiona così Fa che io poi L'agosto Questo dice Oddio Perché magari è capitato Che magari non rispondi Il giorno dopo Ah mo ti fai sentire Non mi hai più risposto Che devo che la conversazione Fosse finita E allora dice Ok mo ti inizio a rispondere E poi magari si passa Dall'altro lato Ora io quello che voglio sapere È Innanzitutto Quando esci con una persona La prima volta Quando bisogna scrivere Per dire Oh vorrei rivederti Seconda cosa Invece è proprio Un discorso di tempi Parlo Nelle relazioni in generale Secondo te Beh se esci Se esco con un ragazzo E poi torno a casa E non mi trovo il messaggio Guarda Mi farebbe piacere rivederti Io immagino che L'uscita non è andata bene Quindi magari Sì quindi magari No ma mia carola Complimenti Cioè mi stai quasi Mi stai quasi conquistando Con queste risposte No quindi magari se Carola No devo Devo comunque Comunicarti il fatto No veramente Perché sta tirando fuori Delle cose che io Cioè ho quasi visto Come una roba utopica Infatti carola Io te lo dico Perché Questa è una proprietà privata Se io d'amore Chiudiamo la porta Non puoi nemmeno denunciarci La tua testimonianza Quanto la nostra Siamo due Quindi occhio a quello che dici Perché potresti Perché cioè Si vede una Cioè io lo so che lei Sta dicendo la verità Perché conoscendola Conoscendola Cioè Per quello che la conosco Ti posso dire Che Anzi mi posso dire Che lei Direbbe Sì Sì Vero Vero È molto sincera Quindi c'è Chapeau No no veramente Ma nel senso Se non mi scrive Capisco bene Che non mi vuole vedere più Esatto Perché stavo Prendo una parentesi Perché tante volte Adesso questo No magari Questa Dall'altra parte Questa forma di Diciamo di Di affetto Ok Anche mandando un messaggio Del genere Fa andare in paranoia Le persone Quindi la gente Inizia a dire Oddio ma questo Che cosa mi sta dicendo Oddio Oddio Invece di stare là E di godersi il momento E di godersi quello Che l'altra persona Gli sta dicendo Siamo sicuri Carola che Non lo so No è tutto giusto Da voi È tutto giusto Ma siamo sicuri Che Magari sì sì Un ragazzo Ti piace tutto Uscite Un'ora dopo Oh sono stato bene Stasera Minchia T'ho a posto Ma siamo sicuri Che uno che ti dice Stasera Sono stato bene Domani sono stato bene Siamo sicuri Che poi non cala L'interesse Beh certo che può calare Perché lì Gli scatta un'altra cosa Che ti conosci più a fondo Esatto Ti conosci più a fondo E l'interesse può calare No no L'interesse cala sicuramente Ma no Può anche aumentare Sì sì Aumenta Cala Cioè si sono alti e bassi Come tutto Cioè nel senso sì Poi che succede Che a una certa Penso che sia Da parte del maschio Che da parte della femmina Almeno per come la vedo io Cioè se uno No inizia Non sa gestire Una determinata cosa È normale che stufa Sia da una parte Che dall'altra Certo no no Poi bisogna anche vedere La chimica interna Come uno vuole andare Esatto Perché magari Una persona ti piace Tutto per certi aspetti Ma te la senti poi Non c'è niente in comune Per esempio Ti è capitato È capitato d'amore Di avere una ragazza Con cui non avevi niente In comune Nel senso che tu eri lì Magari al ristorante E dicevi Ma io non Oddio Mi sento come se Se mi manca qualcosa Oddio non lo so Vorrei chiudere Non so come comportarmi Ma di che stiamo a parlare Cosa di questo genere Sei scorretto Filippo Perché sono scorretto Lo dirà Jacopo No no Chiedo Chiedo No no vabbè Come hai fatto Le mille domande A Carola Mi sembra una domanda Pertinente Al tema Al tema Pupette Direi proprio di sì No beh A me mi è capitato sì È una cosa molto triste È una cosa molto triste Perché Un secondo Scusami Carola Non puoi prendere il cellulare Quando parla d'amore Allora quando Ti volevo fare una foto Ok Capisco Va bene Lo vedo molto imbarazzato Va bene Ma quando parlo io Fai quello che vuoi Ma quando parla d'amore E racconta certe cose Io vorrei Che il cellulare Fosse nascosto Anzi Metti la modalità aereo No ma Lasciala Lasciala fare Lanciato Lasciala fare No comunque Stavo dicendo che Sì è capitato Ma certo che è capitato Capite come Certo che è capitato E ti posso dire che Eh Lì è tosta Lì è tosta Perché Una parte di te Sa che Cioè Una parte di te Si sente abbandonata Una parte di te Si sente stembare Più che abbandonata Più che abbandonata Dice proprio Ma che cazzo stai a fare Cioè ti parla E ti dice Ma che cazzo stai a fare E che cosa consigli ai giovani ragazzi Quando una voce Li dice loro Che cazzo stai a fare Io sono sincero Tante volte Ci ho messo Difficoltà A Allora alcune volte Ho detto ok Questa persona Non Magari non fa per me Oppure Boh Ci sta Dipende poi Dalle situazioni Perché magari Sì Magari poi Hai delle pulsioni Delle cose Che ti attraggono E che quindi tu Magari anche se hai Delle consapevolezze Però ti rendi conto Che E non È un po' più dura Magari rispetto Ad altre Ad altre situazioni Ma dipende Nel senso Dipende dal contesto Dalle circostanze Da quanto tempo È passato Da quanto tempo Non è passato Magari una persona Inizia Mostrando Mostrandosi In una certa maniera E poi improvvisamente Si trasforma Si trasforma E tu dici Ma che cazzo È successo Se sentite dei botti Al microfono È d'amore che sbraida Si muove Da colpi E io mi sento Di voler chiedere A Carola Sei mai stata Abbandonata Da un uomo Oddio Eh Sì 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 Penso sia Capitato a tutti Ecco Ed è molto doloroso Certo Però si va avanti Si supera Si supera Vuoi raccontarci Le dinamiche Senza fare nomi Anche se Nel caso Nel caso di Querele Voglio assicurare Le persone Al mio fianco Che il monologato Dispone di ottimi avvocati No Allora no Non arriveremo Agli avvocati Però No Non contro di voi Contro le persone Certo Sì No Ma Anche contro di voi Eventualmente Però ci sono pochissimi rischi Caramellina No no Allora no La dinamica La dinamica è semplice Dopo un po' di Di frequentazione Anche che Andava Abbastanza bene Io All'improvviso Non ho più Ricevuto Notizie Della persona E poi Ho anche scoperto Che Aveva un'altra Relazione Parallela Quindi Questa persona Aveva un'altra Relazione Carola ma è vero Che hai una passione Per i ragazzi Fidanzati Barra che stanno uscendo Da una relazione Ma no 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 Ho una passione No ho una passione Per gli amori platonici Ecco Cioè Questa passione Iniziata con Brad Pitt È continuata Con Harry Styles Tutte le ragazze Io credo che lei Stia fuggendo La domanda Sì 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 Stia fuggendo La domanda Allora la ripropongo No non mi mettere in difficoltà Carola È vero che hai Una passione Per i ragazzi Fidanzati O che stanno uscendo Da una relazione Allora Non fidanzati Assolutamente I fidanzati Non si guardano Situazioni difficili E non si toccano Questa è un'etica Profonda Che mi ha Buongiorno E nel caso Non vi rivedessi Buon pomeriggio Buona sera Buona notte Ça bouge en Bourgogne Franche-Comté Rendez-vous pour la troisième édition Du Festival des Solutions Ecologiques Du 24 septembre au 2 octobre Découvrez près de chez vous Plus de 200 projets écologiques Soutenus par la région Et venez échanger avec des experts nationaux A Besançon, Dijon, Meuvers, Montbéliard Et Tournus Débat gratuit sur inscription Programmation complète du Festival des Solutions Ecologiques Sur jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr Jeparticipe.bourgognefranchecompte.fr On compte sur vous ! Buongiorno Buongiorno